Oroscopo Cancro dicembre 2018 di Paolo Fox, mese di recupero, previsioni amore fortuna e lavoro ed indicazioni del grafico mensile L'ultimo mese dell'anno tibete protagonista di un importante recupero. Saturno opposto ti ha penalizzato parecchio durante gli ultimi mesi I risultati non sono mancati, ma ogni passo avanti è costato grande fatica grazie ai continui ritardi e complicazioni che di volta in volta sei stato costretto a gestire Gioven aspetto favorevole ti ha dato non poche opportunità di successo. Ed ora che la fase più complicata da gestire è terminata, puoi iniziare a rilassarti un po' di più e concentrarti su ciò che realmente ti interessa Le ostilità determinate da complicazioni ed imprevisti, durante le prossime settimane possono essere superate grazie a soluzioni utili per realizzare i tuoi obiettivi Per l'oroscopo Cancro dicembre 2019 è un bel mese per iniziare a fare progetti per il futuro Il 2019 sarà un anno interessante che porta buone opportunità per emergere. Soprattutto dal punto di vista sentimentale Sei un segno che vive l'amore in maniera molto coinvolgente e passionale. Paolo Fox infatti spesso ha ribadito nel corso dei suoi appuntamenti radiofonici e televisivi che chi vuole provare il vero amore, dovrebbe frequentare un segno d'acqua Tu poi sei un segno particolarmente emotivo e romantico. Associ spesso l'amore al pathos, alla passione ed al coinvolgimento totale che in alcuni casi porta anche alla sofferenza Per te un amore è vero solo se è estruggente. Questa convinzione però non sempre è veritiera Dicembre è un mese durante il quale avrai l'opportunità per dividere l'amore in maniera più serena ed equilibrata La felicità è a portata di mano, anche se sembra difficile da credere, in amore puoi essere sereno anche senza dover patire tanto Oroscopo Cancro dicembre 2018 di Paolo Fox, grande forza e maggiori opportunità.Nell'apostrofo ultimo periodo c'è stato un andamento piuttosto altalenante Ogni piccolo passo avanti ha comportato però anche qualche rinuncio a qualche sacrificio Le tue ambizioni non sempre sono state soddisfatte come avevi previsto. Durante l'ultimo mese dell'anno hai l'opportunità di superare alcuni ostacoli che finora ti hanno rallentato Secondo l'oroscopo Cancro dicembre 2018 si prepara a vivere una fase di recupero, favorita anche da una bella energia Le giornate più interessanti saranno quelle delle ferie natalizie. Susciti ammirazione, ed in alcuni casi anche invidia Attento a chi si avvicina cercando di soddisfare i propri interessi personali a tuo discapito Anche dal punto di vista sentimentale, questo è stato un anno abbastanza altalenante Saturno opposto comunque ha messo in discussione le storie che non valgono. E non è escluso che durante gli ultimi mesi alcune separazioni sono state vissute come una vera e propria liberazione Chi vuole realizzare un progetto di vita, adesso torna a guardare al futuro in maniera più tranquilla e serena Questo non è un mese molto interessante per gli incontri, come indicato dal grafico, c'è un calo nella fortuna e negli incontri L'ottimo aspetto di Venere favorisce soprattutto le coppie durante la fine dell'anno Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like